buon venuti a tutti e buon natale di nuovo a tutti un anno quasi già finito vero se allora oggi visto che è natale faremo una compilation di tutti i giochi quasi tutti i giochi che ho qui quindi questo 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 e altri giochi e c'è anche un gioco qui che adesso vi faccio vedere quindi prima di tutto iscrivetevi e mettete la campanella per essere sempre aggiornati e mettete mi piace se non mettete e se mettete non mi piace vengo lì che ve lo metto da solo quindi iniziamo che bisogna fare in questo gioco io salto ti amazzo ti amazzo no b wow donna che bisogna fare no io contro dei tizi fortissimi non ci vado no provateci è bellissimo no b venite no no devo vivere devo vivere devo vivere che parola b ehi tizi venite morto libero e però di spade atto soltanto questa carino e poi 19 90 usato questo madonna che musiche mostracci wow tre mostri non mostro tutto 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 taglio 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 to mio mio dio venite wow madonna santa quanti sono no sono muerto wow non ci posso credere qui in faccia siamo in due si ah quella lì è la mia amorosa venite di così tanto poco tempo wow benvenite dobbiamo ricaricarci un pochino madonna che bella musiche aiuto vieni giù ah devo tenere anche lei B devo farla sopravvivere ah è più difficile la situa no l'altro è andato ah venite tanto stasuto morto vediamo nel negozio no io ma non ci sono le spade e altre spade non ce ne sono ah sono qui cavolo io non ho cinquecenti non dirmi che ah cinquanta bene vediamo wow proviamo con questa spada è qui aspetta ah no ne proviamo un'altra vai uno epico vediamo ne ha soltanto 20 riproviamo con l'ultima volta comune ce l'ho già ah devo farne tre per averne tre da 30 raro super raro forse 15 andiamo però la principessa non la voglio perché mi distrae ciao ciao toh toh subito wow tutti 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 però di non rimanere da solo perché ho la spada più forte io no vai 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 onde soltanto sei forse lui non sopravvive vai 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 cavolo hanno ammazzato lui non so tanto farlo tutto io madonna santa ma quanti sono sono morti andiamo a vedere che spade ci sono abilità 1.5 e io ho 1.3 vediamo quella super mitica subito no è una comune dai 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 super 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 deve essere epico quant'era quella epico ma aspetta che andiamo a vedere allora spada 20 20 allora di queste 213 di queste due ce ne ho soltanto due vediamo che esce adesso un'altra comune non serve un'altra leggendario madonna si 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 e che cavolo è wow no mitico è più forte di quella leggendaria non me lo immaginavo ho già finito non dirmi che ho già finito i diamanti no basta sono a posto con queste questa cos'è? questa? sto togliendo tutte spada di avviamento spada di avviamento vabbè e io so questa no niente e di abilità? no cosa fare? bye mmm daga no bababababa babababa siamo qui vediamo vediamo siamo con la dod dodge odio super drift blocca anche bella bloccaggio oh ho dato caso il gas è in curva oh oh ho spasciato un po' la macchina vediamo se adesso prendo la rincona via via va bene dai niente e dopo questo bel giorno di natale dopo questo bel video noi come sempre ci vediamo la prossima settimana iscrivetevi mettete un mi piace e se non lo mettete vengo a casa vostra che ve lo metto mi date il vostro indirizzo così vengo e l'ultima cosa mettete sempre la campanella per essere aggiornati per essere aggiornati quindi e